Buongiorno ragazzi, oggi vedremo i complementi di luogo. Stiamo parlando dei complementi indiretti. Ci ricordiamo cosa vuol dire? Noi sappiamo che le espansioni si dividono in complemento diretto che è il complemento oggetto. Tutti gli altri sono i complementi indiretti. I complementi di luogo. Andiamo a vedere. I complementi di luogo indicano appunto i luoghi dove si svolgono le azioni o le situazioni. Attenzione perché sono quattro. Abbiamo complemento di stato al luogo, complemento di moto al luogo, complemento di moto per luogo. Complemento di stato al luogo. Il complemento di stato al luogo indica il luogo dove una persona si trova. Stato vuol dire che esprime un'idea di quiete. Quindi i verbi utilizzati per esprimere il complemento di stato al luogo sono sostanzialmente restare, vivere, trovarsi, riposare, sostare, ecc. Ricordiamo che il complemento di stato al luogo risponde alle domande dove, in quale luogo. Esempio, la giacca si trova sulla sedia, dove si trova la giacca? Sulla sedia. Poi abbiamo il complemento di moto a luogo. Indica il luogo dove ci si dirige, dove vai. Quindi è retto da verbi che contengono un'idea di movimento, come andare, partire, arrivare, mandare, dirigersi, ecc. Il complemento di moto al luogo risponde alle domande. Verso dove? Verso quale luogo? Esempio, domani vado a Milano. Dove? Verso dove? A Milano. L'aereo parte per Milano. Dove va? Va a Milano. Poi abbiamo il complemento di moto da luogo. Da. Da dove viene? Da dove proviene? Ed è retto da verbi che esprimono un'idea di movimento, come partire. Parto da uscire, esco da andarsene. E risponde appunto alle domande. Da dove? Da quale luogo? I miei amici vengono da Napoli. Da dove? Da Napoli. Complemento di moto da luogo. Poi abbiamo il movimento, il complemento di moto per luogo. Indica il luogo attraverso il quale passa una persona, un animale, un oggetto, eccetera. Per dove passi? Tra cosa passi? Ed è retto da verbi che esprimono un'idea di movimento, come passare, passo tra, attraversare, trasportare, eccetera. Risponde alle domande per dove, attraverso quale luogo, esempio, il vento passava tra i rami. Fra i rami. E qui abbiamo alcune frasi da analizzare. Le troverete anche sul sito e le farete sul quaderno. Arrivederci.